Gentili telespettatori, buona giornata, report del fisco, taxi e bar. A Bolzano, la città con propensione all'evasione più bassa d'Italia, i dentisti dichiarano tre volte di più che a Roma, 134.000 contro 44.000, come a Potenza e Campobasso. Gli ingegneri 87.000 euro, il doppio, 44.000 euro a Roma, meno di Ancona. I redditi dichiarati variano molto anche tra i trassisti, dai 27.000 euro di Venezia Mestre si scende ai 20.000 a Firenze e Bolzano, 19.000 a Milano, ma a Roma la media è 10.000 euro, a Napoli e Palermo 9.000 euro. Tra i ristoranti i maggiori redditi si registrano a Trento e Venezia con 32.000 euro, 29.000 euro a Milano, ma a Roma, Bari, Napoli e Palermo si scende addirittura a 12.000 euro. Lo stesso per i bar, a parte Bolzano con 30.000 euro e Milano con 20.000, nelle altre grandi città del paese i bar guadagnano solamente 9.000 euro, cioè 750 euro al mese. Grazie a tutti e arrivederci a presto.